cominciamo col dire che io un giardino non ce l'ho ci sono cresciuto in un bellissimo parco storico ci ho giocato, ho letto libri però non era mio, non c'era il mio nome e poi ho lavorato in tanti giardini ho lavorato nei vivai, anche all'estero ma tutti i posti non miei e chi se ne importa, direte però sappiamo tutti quanto il senso della proprietà sia importante per noi quanto influisca sulle nostre emozioni sul modo di usufruire di qualcosa sapete quando si dice qui non mi sento a casa mia cosa si prova quindi buon 6 di novembre e benvenuti a Giardino Rivelato il podcast che vi aiuta ad avere un giardino anche quando effettivamente non avete un giardino e lo fa attraverso la nostra solita chiacchiera la scorsa settimana ho visto una scena da film una ragazza ferma in mezzo alla stazione Termini a guardare il tabellone delle partenze o degli arrivi piena di valigie e con un potos in mano non sapete cos'è un potos? andate a cercarlo su Bing giusto per cambiare un po' avere una pianta da portarsi dietro per il trasloco non è come avere un gatto o un criceto avere un proprio giardino non è come avere un animale domestico anzi è forse un incrocio tra l'animale domestico, una casa e un quadro mi ci posso affezionare ci posso entrare dentro e può essere un'opera d'arte un po' per moda un po' perché rispondono a un'esigenza che abbiamo tutti di contatto con la natura di biofilia stiamo avendo un boom economico delle piante d'appartamento se andate su Instagram ogni lunedì c'è l'hashtag Monstera Monday in cui pubblicano le foto della loro Monstera quella pianta tropicale che sembra un po' un demogorgone e la Monstera sta diventando un po' il simbolo di questa ondata pop di piante d'appartamento perché la mia pianta me la curo le scelgo il vaso mi piace sistemarla per bene anzi più la curo più mi dà l'idea di capirci più di quanto non ci capissi prima e questo è un po' un ostacolo che si ha sempre quando si ha a che fare con le piante anche io che non ho un giardino mio ho deciso di ricominciare a fare una cosa che qualche anno fa mi divertiva molto cioè crearmi dei micro giardini avevo cominciato con un wok rovinato era da buttare ci ho messo dentro del terriccio mescolato stratificato in modo tale da non far marcire le radici che è molto importante e di trattenere un po' più d'acqua in modo che fosse comunque non troppo difficile da mantenere ci ho messo dentro una marea di piantine tropicali così ho fatto il mio giardino da annaffiare una volta al mese una da tenere sulla scrivania e tra l'altro a mio avviso instagramabilissimo e poi l'ho fatto con brocche, lattine, tazze tutte quelle cose da buttare anche contenitori di plastica che dovevano essere usa e getta mi piace fare questi giardini perché quando li annaffi si sente un po' l'odore del bosco ed è dentro la tua camera dentro casa perché se ci perdi un attimo lo sguardo puoi fantasticare immaginarti nella giungla alle tre di notte in questo momento storico negli ultimi decenni ci sono tantissime esperienze che tentano di portare il giardino da elemento elitario a qualcosa di accessibile a tutti da mille punti di vista Gilles Clément paesaggista francese ne abbiamo già parlato una volta ha fatto un giardino di ortiche lui parla di giardino planetario un giardino fatto di tutte le piante globali di tutte quelle piante che si trovano in tutto il mondo e che quindi sono invasive a livello botanico diciamo non sono entusiasmanti perché sono il simbolo di una perdita di biodiversità eppure sono un segno ecologico dei nostri tempi quindi in qualche modo abbracciarlo fare un giardino con tutte le erbacce che crescono spontaneamente è un modo per avvicinare il giardino alla cultura contemporanea oppure Walter Hood il paesaggista americano che si occupa tantissimo di progetti che facciano sentire accolte le persone spesso per inaugurare i suoi progetti fa dei pranzi con i comitati di quartiere utilizza utilizza tanto delle cose che si basano sulla vita quotidiana delle persone che si basano sul jazz sulla storia quotidiana sull'improvvisazione sull'informalità di un luogo di un luogo vissuto veramente dalle persone oppure tutto lo studio sui giardini aridi su tutte le piante che possono crescere senza bisogno di essere annaffiate con delle vasche per la raccolta delle acque con delle piante che riescono a sopportare l'aridità in un clima che si sta estremizzando sempre di più è un momento storico fertile perché si sta facendo tanta ricerca e la ricerca si fa perché le persone hanno bisogno perché noi abbiamo bisogno di vivere questi giardini sempre in modo più approfondito e spesso non ci basta solo poterlo andare a visitare da turisti abbiamo bisogno di viverlo nella nostra quotidianità anche un giardino di quartiere e noi ci stiamo per salutare intanto prima di lasciarvi vi ricordo che se volete potete trovare Giardino Rivelato su Instagram e lì potete scriverci potete seguirci fateci sapere come fate a portare un po' di natura nella vostra quotidianità io per esempio da anni sono affascinato dal dipinto di un giardino che si trova per le scale di casa mia è la stampa di un quadro di Lucy Willis una pittrice di paesaggi e questo quadro mi trasmette un senso di pace di appartenenza incredibile un posto pavimentato in ombra sotto gli alberi davanti a casa e lì anche se non c'è nel dipinto mi immagino un tavolo per fare colazioni pranzi l'estate e mi fa venire in mente un brano del libro stupendo La mia famiglia e altri animali di Gerald Durrell La colazione nell'insieme era un pasto che si svolgeva con comodo e in silenzio perché a quell'ora nessuno di noi era molto loquace verso la fine del pasto si facevano sentire i benefici e effetti del caffè del pane tostato e delle uova e noi cominciavamo a rivivere a dirci quello che ci proponevamo di fare perché pensavamo di farlo e poi a discutere impetuosamente se quelle varie decisioni fossero sagge io non so se vi abbia colpito questa descrizione però a me piace tanto mi piace immaginare questo bel giardino un tavolo un posto dove mangiare insieme agli altri dove invitare i propri amici dove scherzare tutte queste sensazioni belle che possono regalare dei luoghi dove vivere quotidianamente sono probabilmente il motivo per cui abbiamo deciso di progettare giardini di progettare giardino di progettare giardino